Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira la cinchia. Per continuare a vedere questo video e molti altri visita thevoiceovitaly.rai.it Prima di andare via, clicca qui e iscriviti al canale ufficiale di The Voice of Italy. This is The Voice.